piega destra, tieni sinistra dopo il cartello 30, destra 2, sale destra 2, sale 150 allo stop, sinistra 3, tieni allo stop, sinistra 3, tieni sinistra 3, tieni piega destra piega sinistra tieni destra, 70 piega sinistra 70 destra 5, tieni piega sinistra lunga lunga 70 destra 4, di fronte all'albero 70, tieni destra sul dosso, attenzione, stacca, inversione sinistra, scende sul dosso, stacca, inversione sinistra, scende scende, attenzione 50, piega sinistra, tieni destra sinistra 2, chiude sinistra 2, chiude sinistra 2, chiude 50 dosso, scende tieni destra 3, scivola dosso, scende attenzione, destra 3, scivola tieni sinistra, inversione destra inversione destra inversione destra allo specchio destra sinistra 4, tieni 70 70 ai tanzi, tieni destra inversione sinistra salta inversione sinistra salta attenzione 200 200 destri e al cartello sinistra 4 al cartello sinistra 4 tieni destra attenzione, ritarda inversione sinistra scende inversione sinistra scende molta attenzione 100 comprime attenzione al cartello sinistra 4 sinistra 4 sinistra 4 attenzione piega destra sale dosso tieni destra scende dosso scende tieni destra piega destra sconnessa piano tieni sinistra attenzione sconnesso sinistro destra 3 destra 3 salta destra 3 salta sinistra 4 destra 4 sinistra 4 sinistra 4 30 sinistra 5 sale e allo stop attenzione ritarda inversione destra ritarda inversione destra ritarda inversione destra attenzione ritarda inversione destra in versione destra 50 al cartello destra 4 e ai paletti piega sinistra e al palo stacca Ginkan in versione destra e ai Ginkan ingresso destro e al palo Ginkan ingresso destro e 70 Ginkan ingresso destro ancora sinistra 5 50 e al cartello molta attenzione scivola destra 2 in sinistra 3 sconnesso sinistra 3 sconnessa piega sinistra lunga lunga e dopo il cartello attenzione inversione sinistra molta attenzione inversione sinistra dopo il cartello inversione sinistra 50 piega sinistra destra 4 lunga in attenzione sinistra 3 sale sul ponte destra 4 lunga attenzione sinistra 3 sali sinistra 3 sali sul ponte attenzione sinistra 3 sali addosso in sinistra 4 non tagliare tieni destra 3 sul ponte attenzione qui e allo specchio sinistra 2 e allo specchio sinistra 2 gira gira piega destra lunga 50 e alla casa piega sinistra e alla casa piega sinistra e allo specchio, tieni sinistra e attenzione, inversione destra, ritarda inversione destra, ritarda 50 sinistra e 5 ok